Ci dovremmo essere. Vediamo se mi vedete. Ci siete? Eccomi qua. Benvenuti a tutti quanti, benvenuti a tutti quanti. Se mi date qualche segnale di presenza, così vediamo perché sto usando una nuova piattaforma perché volevo fare grandi effetti speciali oggi. Vediamo. Ok. Si sente? Un attimo sto usando tutti i mezzi a mia disposizione tecnologici. Si sente bene? Si sente? Ciao a tutti, benvenute, benvenuti. Mi se mi date un rimando se si sente? Perfetto. Allora, sto usando un nuovo sistema. Ciao a tutte quante e a tutti quanti intanto, benvenute, benvenuti. Sto usando un nuovo sistema perché fra poco faremo grandi effetti speciali, nel senso che se riesco a usare bene la tecnologia dovrebbe apparire a breve l'assessore alla cultura del comune di Sona perché questa serata che adesso sto per fare su il paradiso e la felicità doveva essere la conclusione, intanto vedo che si sta movimentando il tutto. Ciao, ciao, ciao. Sempre tanta bella gente. Perfetto. Doveva essere una... faceva parte di un ciclo di serato organizzate dal comune di Sona e dall'assessorato alla cultura che si intitolava proprio Dante istruzioni per essere felici. Avevamo fatto i primi due incontri, quello sull'inferno e quello sul purgatorio. Ahimè, prima di riuscire a fare l'incontro del 6 marzo, come ben sapete, avvenne la pandemia e quindi saltò tutto quanto. Allora in contatto con l'assessore avevo pensato che poteva essere una buona cosa, ecco anche l'assessore che sta scrivendo, ma fra poco apparirà, poteva essere una buona cosa, visto che sto un po' prendendo dimestichezza con le dirette, provare a fare la terza puntata che era la puntata, tra l'altro, quella che doveva essere la puntata culminante. Allora, intanto che vediamo se l'assessore Giovanni Gianmichele Bianco riesce a entrare in queste diavolerie tecnologiche, volevo spiegare il senso di queste serate. Le serate appunto volevano essere prendere, magari forzando anche un po', ma io non credo, la commedia, secondo le intenzioni di Dante stesso, che quando scrive la lettera a Cangrande dice che scopo della commedia è rimuovere vivente, s'allontanare i viventi appunto da una condizione di infelicità e portarli a uno stato di grazia, vedere appunto se la commedia potesse essere un compendio di istruzioni per essere felici e quindi parlare di felicità. Chiaramente la felicità di un uomo medievale, di un intellettuale medievale che tra l'altro nella vita tanto felice non era, perché sappiamo bene che Dante scrive la commedia durante l'esilio, quindi nel periodo più buio alimento totale della sua vita, della della sua carriera politica, del suo essere uomo di famiglia, del suo essere uomo in tutto e per tutto. Il primo incontro faccio lo spiegone e poi appunto iniziamo a vedere che cos'è per Dante la felicità nel paradiso e non sarà una cosa facile, lo premetto, non sarà facile nemmeno per me provare a spiegarla. Nell'inferno sostanzialmente quello che provavo a far notare era l'emergere comunque di un bene anche nel momento di crisi, già nella selva oscura, ma per parlare del ben chi vi trattava, il sole che illumina il canto primo dell'inferno, il fatto che Dante disegni dannati come chiusi nel loro egoismo, un egoismo obeso, un egoismo ipertrofico, che non hanno connessioni tra di loro e alla fine arrivare addirittura a un lucifero che passa tutto in un movimento ossessivo e inutile, cioè quel movimento delle sue ali ghiaccia tutto ma non sono, non è un movimento di ali che permette di volare, per cui in generale se volessimo fare un po' gli psicologi dei poveri, l'inferno mette in moto dei dannati nel loop congelati, nel loop paralizzante delle loro ossessioni, cioè il peccato. Se prendiamo anche una Francesca che tanto ci piace, vedremo che Francesca è sempre presa da la bellezza del suo Paolo, questi che mai da me non ti ha diviso, che ancora non mi abbandona, condusse noi ad una morte, insomma e in qualche maniera ho letto una... ciao Andrea, Andrea Cona ha scritto una... Andrea Cona sta andando nel diviso perché è dentro l'inferno dell'Inps e quindi ha bisogno di prendere un po' di luce. E dicevo, e quindi i dannati non sono pentiti, sono sempre ossessati da qualcosa, farinata dall'amor di patria, cavalcante padre dal figlio, ugolino dal suo onore e da quello che ha subito, Ulisse dalla sua smania di desiderio, insomma nessuno di loro è... ha realmente compiuto un percorso di formazione, un cambiamento di pensiero. Nel Purgatorio invece, che è una cantica più umana e anche qua mi permetto di fermarmi, di soffermarmi un attimo, ciao caro Gianni, spesso io sento dire che è meglio l'inferno perché è una cantica umana, che i personaggi dell'inferno sono personaggi umani e io ormai ho l'orticaria di fronte a questo tipo di definizione perché non so come dire, non è l'inferno la cantica umana più simile a noi, l'inferno è la cantica più disumana, più bestiale. Allora se noi cerchiamo e vogliamo confrontarci con qualcuno, con qualcosa, è il Purgatorio. Nel Purgatorio c'è un'umanità che si rimette in gioco, è un'umanità ancora fallace, è un'umanità ancora fragile, però è un'umanità che inizia a mettere in moto dei meccanismi virtuosi. Quindi è il Purgatorio, la cantica dove torna la natura, torna la poesia, torna il tempo, torna una liturgia, torna la speranza, tornano i sorrisi, tornano anche gli abbracci, torna la gentilezza, ma soprattutto torna l'uomo. Cioè è l'uomo che torna nel Purgatorio, un uomo che deve ricostruire la propria umanità, che deve rimettere in moto la propria umanità. Sono tutti i peccatori ancora, i superbi sono ancora un po' superbi, i lussuriosi sono ancora un po' insuriosi. Nel senso non è che sono delle persone totalmente purificate, sono ben al di qua, dal muro di fuoco e dalle acque dei fiumi edeni che servono a cancellare quello che eravamo. Però è un'umanità che si rimette appunto in cammino, pentendo e perdonando, sono le due parole importanti del Purgatorio, pentendo e perdonando. E torna un Dio che è amore, un Dio che perdona, un Dio dall'amore sovrabbondante, che non è più preoccupato di colpevolizzare i giusti, ma di giustificare i colpevoli. E da qui le grandi figure scandalose, come Catone, che non capiamo, ma anche Manfredi, ma anche Bonconte da Montefeltro. Insomma, nel Purgatorio ritorna la misericordia, un amore di Dio paterno e materno che rientra un po' nella logica anti-economica del Vangelo. Se noi pensiamo alle grandi parabole del Cristo, non sono parabole su cui non riusciamo a star dentro. Anche una parabola come il figlio al prodigo, ci fa un po' innervosire, perché noi non capiamo il trattamento. Noi siamo un po' dalla parte del figlio che è sempre rimasto a rispettare le regole. A volte, leggendo il Purgatorio, ci sembra che non sia tanto giusto questo amore di Dio che perdona, anche se non facciamo una grande fatica. E invece qua è questa la logica non economica dell'amore. L'amore non segue logiche di torna conto, non segue logiche di quello che do a te, quello che dai a me, di compensazione, di equilibrio. L'amore di Dio è un amore così abbondante che accoglie tutto quanto. E quindi, ecco, grosso modo sono queste le due cose che noi dobbiamo tenere alle spalle per riuscire a entrare a parlare del paradiso. Quindi, l'inferno come ossessione dei dannati chiusi nel loro io, in un loop congelante, il paradiso è l'amore che ritorna, l'umano che ritorna, si rimette in gioco con le sue cadute, ma in una nuova logica. Per esempio, le anime del purgatorio, tra di loro, fanno delle cose insieme. Cantano, pregano, piangono, ma lo fanno insieme, non come le anime dannate che bestemmiano i loro parenti d'Inferno 3. Sono anime che insieme cantano, pregano. C'è un'umanità che torna a essere solidale. Ecco, su questo sfondo, oggi, queste erano le cose che avevo fatto in quelle serate a Sona, invece adesso facciamo la terza parte, che è la parte del paradiso. Mi sembra che l'assessore sia ancora perso in qualche, speriamo, in qualche cornice purgatoriale, prima di arrivare al paradiso terrestre, però entriamo a parlare del paradiso. E faccio ancora un paio di premesse. La prima premessa, e qua cito il mio amico Gianni Vacchelli, e dopo dirò delle cose sia su Gianni Vacchelli, su Riccardo Starnotti, che vedrete nei commenti, perché insieme a Gianni e Riccardo stiamo preparando delle, stiamo facendo ormai delle maratone dantesche, e quindi poi vi dirò anche gli appuntamenti delle settimane, però da Gianni Vacchelli, che è un amico e un maestro, io ho imparato una cosa che sembra banale, cioè quando noi parliamo di Dante, lo chiamiamo per nome. Non è che noi diciamo il Giovanni, Lugo, il Francesco, lo diciamo, il Pascoli, il Foscolo, il Petrarca, invece Dante non lo chiamiamo l'Alighieri, cioè noi usiamo nella frase l'Alighieri soltanto se abbiamo già scritto un periodo con quattro volte Dante, per fare un po' di variazioni diciamo l'Alighieri. Ma Dante è uno di noi. Cioè Dante, noi lo chiamiamo per nome, quasi fosse uno di famiglia. E qua, ciao Roberta, e qua c'è la prima idea che a me piace molto. Cioè Dante è uno di noi, noi lo chiamiamo Dante, non lo chiamiamo per cognome, lo sentiamo vicino, cioè è uno di noi. Ma se noi pensiamo alla parola Dante, che lui tra l'altro non si chiamava nemmeno Dante, si chiamava Durante, però nella commedia si fa chiamare Dante, si autobattezza Dante. Dante vuol dire colui che dà. Allora, già questa cosa dovrebbe farci capire come è entrato anche nel nostro DNA culturale, cioè Dante generosamente è colui che dà a noi che cosa? Questa commedia. commedia, cioè commedia, che si chiama commedia perché ha un lieto fine. Dopo noi la chiamiamo divina. La chiamiamo divina per vari motivi, perché c'è stato un editore che a un certo punto gli è piaciuto che fosse appellata divina e quindi viene chiamata divina. Allora io che sono un po' snob non dico mai la divina commedia, io dico sempre la commedia. Anzi, se fossimo proprio snobbissimi dovremmo dire comedia. quindi però divina commedia ci sta e ci sta nella puntata di oggi. Perché? Perché io ormai mi sono fatto l'idea, forse forzando anche un po' la commedia, forse anche un po' andando contro, però che la commedia è divina perché parla di Dio e perché ci conduce a Dio. Ed è questa la difficoltà del paradiso. Io ho provato a parlare del paradiso già in un altro intervento a San Giovanni Lupatotto con l'amica Anja Rodi e l'associazione Arbes a casa Novarini. E mi ricordo che stavo presentando loro il paradiso, tra l'altro era un incontro su Dante e Jung, quindi figuratevi già la complessità della cosa, però mi mi rendevo conto che io facevo fatica a parlare del paradiso perché il paradiso è la parte dove noi facciamo più fatica oggi. Perché noi non siamo uomini del medioevo, nel bene e nel male. Ma nel bene non siamo uomini del medioevo, perché noi non abbiamo più questa familiarità con il divino. Cioè è molto probabile che noi abbiamo speranza e carità, ma è poco probabile che noi abbiamo fede. Nel senso che un uomo medievale, costantemente vedendo il mondo, vedendo la natura, vedeva il volto di Dio. Un uomo medievale, guardando il cielo, vedeva gli occhi, il volto di Dio. Dante vede gli occhi di Beatrice. Cioè le stelle non sono un astro lontano, sono un ritornare a casa. Ed è bellissimo, lo dice proprio Dante, adesso non mi ricordo più, mi sembra in inferno, ritornare a ca. Lo dice anche in maniera colloquiale. Quindi, se noi riusciamo a capire l'inferno, perché noi ci stiamo dentro quella psicopatologia, se noi riusciamo a capire bene il purgatorio, perché ce lo spiegano male, ma se noi lo leggessimo lo capiremmo, e ci stiamo dentro perché ci sta bene questa umanità un po' ancora cadente, il problema che pone la cantica del paradiso è, ma tu che rapporto hai con Dio? E questo è il grande problema. Secondo me, noi facciamo fatica a stare nel paradiso non solo per i motivi teologici e dottrinali che ci sono dentro, ma soprattutto perché facciamo fatica a stare in questi 33 canti di abbagliante lieto fine. Ma un abbagliante lieto fine metafisico, un lieto fine che continua a ricordare a noi, ma tu che rapporto hai con Dio. E io adesso, alla parola Dio, do un senso ampio, non da un senso restrittivo. Io dico, noi ci facciamo, apriamo la porta al divino, facciamo entrare, irrompere il divino nelle nostre vite. Che rapporto abbiamo col sacro? Che dimestichezza abbiamo col sacro? Che familiarità abbiamo col sacro? Ecco, questo è il grande problema, secondo me, di noi lettori moderni a leggere la commedia. Io non sono uno così esperto di letteratura italiana, un pochino conosco Dante perché sono un turista della commedia, però secondo me per trovare un poeta con un'altrettanta apertura, la dimensione trascendente, abbiamo soltanto manzoni. Cioè faccio fatica io a trovare un altro poeta o un altro scrittore che abbia questo accesso così sereno e fiducioso verso il divino. Cioè già Petrarca rovina la festa. Adesso non voglio fare un discorso eccessivamente filosofico e ripeto, a questa dimensione sacra, se noi vogliamo anche togliere gli aspetti confessionali, ci rendiamo conto che ne abbiamo bisogno. Il problema è che questa è una parte che non ci permette di essere interi e la commedia per essere intera ha bisogno di questa terza parte. Abbiamo tolto la nostra parte bestiale, ci siamo riappropriati della nostra umanità, ma di questa umanità cosa ne facciamo? La dobbiamo rilanciare nel trascendente. È questo il viaggio, non possiamo fermarci prima. Vi parlo di questo libretto. Nei momenti di crisi, si riesce a vedere? Eccolo qua. Come essere adulti, cambiare se stessi. Ogni tanto nei momenti di crisi personale, individuale, ricorro a dei libri. E in questo periodo sentivo che più che essere una persona buona, più che essere una persona felice, io ogni tanto sentivo il bisogno di essere una persona pura. E quindi andando in libreria, dalla mia amica Roberta, pagina 12, avevo visto questo libro che mi ha chiamato, Come essere adulti, di David Rico, penso si pronunci così. Cioè, è un libro che vi spiega come di fatto diventare grandi. E lui, fatalità, divide il tutto, è uno junghiano, e divide tutto in tre tappe. E fatalità sono le tre tappe della commedia. Lui dice, la prima tappa è rendersi conto della propria ombra. E quindi questo è il primo problema. La seconda parte, integrarci socialmente. E se noi vediamo, questa è la dimensione della commedia. Cioè, usciamo dal monoteismo dell'ego dell'inferno. Ugolino, io, 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 io. Ugolino è tutto un continuare a dire io. Anselmuccio mio. Si sbaglia se si vede in Ugolino il padre. Ugolino è l'anti-padre. È proprio veramente l'uomo congelato in se stesso. È un dio in un mondo spento. Quindi ci sono le nostre ossessioni. Poi c'è l'integrazione sociale. Queste emozioni, dove le buttiamo? Le dobbiamo condividere con gli altri. E questo è il percorso psicologico inferno e purgatorio. Cioè, noi non dobbiamo forse andare neanche dalle psicanalisti. Dovremmo leggere e studiarci la commedia. Ma manca qualcosa. E questa terza cosa è il guardare, appunto, il divino. Intanto guardo se ho comunicazioni dalla regia. Partiamo. Questa cosa qua la sapeva perfettamente anche Dante. Io oggi non parlerò chiaramente del paradiso. Vi farò quattro esempi per me importanti. O voi che siete in piccioletta barca, desiderosi da ascoltar, seguiti dietro al mio legno che cantando barca, tornate a rivederli i vostri liti. Non vi mettete in pelago che forse, perdendo me, rimarreste smarriti. L'acqua che prendo, giamai non si corse. Mi nerva, spira, e conducemi a pollo, e nove muse mi dimostran l'orse. Voi altri pochi, che trizzaste il collo per tempo al pan degli angeli, del quale vivesi qui, ma non sembienza tollo. Metter potete ben per l'alto mar vostro, per l'alto sale, scusate, vostro navigio, trovando mio solco dinnante all'acqua che ritorna e quale. Dante, questo è il canto secondo del paradiso, inizia dando una sberla ai suoi lettori, dicendo, o voi pochi che siete rimasti, assolutamente. Eccola qua, cioè, anche Dante si rendeva conto che il paradiso è un problema, che il paradiso è un problema perché è questa la domanda assillante. Cioè, persino Dante, medievale, sapeva che questo guardare in faccia a Dio non è facile. O voi che siete in piccioletta barca, o voi che siete rimasti, sembra un po' Ulisse che si rivolge ai suoi, o frati, a questa piccola vigilia. È la stessa cosa, è lo stesso linguaggio, perché come Ulisse, Dante, stava arcando le colonne d'Ercole metafisiche per andare nel luogo dell'indicibile. E quindi, chi è rimasto, quei pochi di voi che sono rimasti, sono rimasti perché si sono saziati del pan degli angeli. Questa bellissima immagine. Cioè, che sì, può anche essere un po' nutrirsi di teologia, ma secondo me è proprio il mangiare la verace manna. Cioè, è iniziare a nutrirsi del divino. Dice Dante che questo rischia di diventare un cibo rigido, cioè rischia di essere un cibo indigesto. È questa la grande scommessa e secondo me è la grande scommessa di tutti quanti quelli che provano umilmente a parlare del paradiso cercando di farlo piacere e sempre un po' naufraghiamo. Cioè, la scommessa non è tanto forse quella di far ritornare la voglia di leggere il paradiso. La scommessa dovrebbe essere di far ritornare la voglia di chiedersi che rapporto ho con Dio. Questo è, al di fuori di tutta la bellezza letteraria, il grande messaggio del paradiso. La fatica nostra è la fatica di Dante che per nove cieli, ecco l'assessore, però vi blocco. Vediamo se riesco. Ci amo? Mi senti? Sì, sì, molto bene. Oh, l'assessore è arrivato. Ciao Gianmichele. Ciao. Vuoi dire due parole? Dai, io stavo andando come un fiume in piena. No, no, ma ti stavo ascoltando, è che non potevo parlare perché ero in itinere, quindi con la mascherina. Ho visto, ho visto. Tragitto comune casa. Posso testimoniare. Sai che vengono fuori i problemi. No, comunque, grazie di questo ti rilascio al paradiso, che è il luogo dove sicuramente si sta meglio che qui in questo momento. E casomai ci sentiamo alla fine e magari diciamo qualche sorpresa per il futuro. Io ti rievoco alla fine, faccio la magia e così riusciamo a dire anche quello che state facendo voi a Sony in questo momento. Ti va? In questo momento stiamo facendo... No, ma so che fate le cose online. Ci sono poche cose da raccontare. No, a livello culturale le cose online. Quello che faremo in futuro. Sì, certo, certo. Certo. Allora ci rivediamo dopo. Cammina pure in paradiso. Va bene. Ah, tanto per intenderci. Io abito in via Paradiso, qua vicino c'è via Paradiso. Vabbè, allora siamo a posto. Eh sì, va bene. Mi sta salutando Roberta. Vedo ciao Gianmichele. Ecco, dopo. Tu vedi i commenti. C'è una bocce, c'è un'icona per vedere i commenti anche da parte tua, se riesci. Ah, ok, ok, ma io vi lascio uno. Butami pure fuori. Ciao. Allora, eccomi qua. Non so più di cosa stavo dicendo. Ah sì, per nove cieli Dante prepara se stesso. A questo. Allora, una difficoltà di Dante nel rendere consapevolmente questa materia, questo cibo che potrebbe diventare rigido, cioè parlare di Dio, sta nel grande problema dei mistici. Il grande problema dei mistici è questo, cioè che quando io nomino Dio già di per sé, lo rovino. Cioè, di Dio non si può parlare. Se io già lo nomino lo rischio di fare disastri, perché Dio si fa fatica a capire e quel poco che si capisce si fa fatica a ricordare e quel poco che si ricorda si fa fatica a dire. Questo è il problema grande di Dante, come riuscire a rendere. Poi, per carità, ci mette 33 canti per parlare di questo. Figuratevi se non avesse avuto problemi. Ma al di là di questo, Dante consapevolmente, da uomo mistico, sa che l'unico modo che ha per poter parlare di Dio è usare un qualcosa di assolutamente inadeguato, un simbolo dissomigliante. Cioè, noi riusciamo a vedere Dio in maniera... laddove non ce lo aspetteremmo. Però adesso sto parlando molto io e vorrei far parlare di... e vorrei far parlare Dante e vi faccio capire un po' che razza di cosa è costretto a escogitare Dante per riuscire a rendere questa cosa. Tra l'altro, il paradiso è il regno della luce. La gloria di colui che tutto muove per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove. Come fai tu? Era facile rendere l'inferno con Caronte, il Minotauro, le furie, le arpie, le selve oscure e anche il purgatorio, insomma, il monte, la natura, i bassorilievi dei superbi, il fumo infernale nella cornice degli iracondi, la fiamma dei lussuriosi. Cioè, avevamo tanto da vedere, ma noi che cosa vediamo nel paradiso, dal paradiso? Noi vediamo sfumature di luce, vediamo anime imbozzolate come crisalidi fasciati di luce e vediamo miriadi di luce che costruiscono scenografie celesti. Ma per riuscire a capire questo meccanismo, noi dobbiamo fare un cortocircuito mentale. Ve lo leggo e facciamo prima. Non è Fantin che si subito rua col volto verso il latte, se si svegli molto tardato dall'usanza sua, come fecio. Allora, siamo al canto trentesimo del paradiso. Noi qua siamo già, anzi, sta per arrivare l'Empireo. Sta per arrivare addosso a Dante un fiume di luce. E Dante parte con una similitudine assolutamente inattesa. Per quello vi dico, Dante è nell'inatteso. Vedo che man mano si aggiungono persone, quindi io nel mio cuore vi sto salutando tutte quante e tutti quanti. Dopo faremo un rito gioioso, però ecco, sono contento che voi ci siate. Non c'è. Le sfumature sono norma. Abbiamo una giovane ragazza che arriva dall'Argentina. Le sfumature sono... Come si fa a spiegare a Riccardo sfumatura a norma? Mi aiuti? Adesso Riccardo ci penserà lui con il commento. Allora, come un bambino che si sveglia e ha molta fame perché si è svegliato in ritardo, non è Fantin che si subito rua, corre col volto verso il latte, se si svegli molto tardato. Cioè anche nel momento... Ecco, grazie Riccardo. Nel momento dell'ambizione più metafisica, più allucinante, Dante escogita una similitudine proprio da mamma, cioè entra in quella dimensione lì. Per quello vi dico Dio è nell'inatteso. Il bambino che si sveglia tardi e che corre verso la mammella della mamma, verso la tazza di latte. Quindi c'è anche questa definizione psicologica, sì, da Lucy in the sky. Per far migliori spegli ancora degli occhi, per quindi come un bambino che corre verso il latte se si sveglia tardi, per fare i propri occhi specchi migliori, e già qua siamo nel cortocircuito, Cioè non c'è correlazione tra queste due cose. Così mi feci io, chinandomi all'onda che si deriva perché vi si immegli, quest'onda che viene verso di me perché io mi immegli. Neologismo incredibile. Immegliarsi. Io mi immeglio. Quindi, arriva la fiume di luce e io come un bambino che vuole bere latte che ha tanta fame, mi avvicino a questo fiume di luce per fare i miei occhi specchi migliori, e siccome di lei bebbe la gronda delle palpebre mie, così mi parve di sua lunghezza divenuta tonda. La gronda delle palpebre, cioè non le sopracciglia, la gronda, la grondaia delle palpebre, lappa il fiume di luce e quindi si immeglia. Cioè capite che il paradiso è faticoso e Dante lo sa, lui dice statemi dietro, ma oppure dice anche rimanete a casa perché qua voi vi perdete. Dante è un trip allucenogeno, Dante è un pusher di sostanza letteraria, psichedelica. Questo è un omaggio al mio amico Roberto Sirigu, cioè i classici, dalla Bibbia in poi, sono libri che ci costringono questi cortocircuiti mentali. Dio dice fiat lux et lux facta est, è un cortocircuito, perché è un cortocircuito soltanto il fatto che c'è un narratore in terza persona che vede Dio che crea il mondo, cioè sono cortocircuiti. Allora, noi per stare dentro il paradiso stiamo in questa dimensione di ecstasy, ma questa ecstasy assolutamente legale che è la sostanza letteraria. Allora, il paradiso è tutto così. Dante, se vedete, usa l'immagine del bambino, cioè già il fiume di luce è già tanto, ricorre a una cosa psicologica a noi molto affine, molto vicina. L'esperienza domestica del bimbo che si sveglia e che ha fame. Io, con tre figli piccoli, ho presente di qualcosa che sta parlando. Quando mia figlia si sveglia, urla. Devi essere pronto. E quindi anche rende l'ansia, l'ardore di potersi abbeverare. Ma non dice che lui beve questo latte, dice che gli occhi, la gronda delle palpebre, beve. Cioè, come fa l'occhio a bere? È una sinestesia. Queste cose, li diceva Dionigi, l'Oriopagita, li dicevano i mistici. Cioè, è questa la chiave per entrare nel paradiso. Mollare tutte le nostre certezze e diventare uomini sinestesici. Per cui tutti i sensi entrano in cortocircuito tra di loro. Si parte da un'immagine domestica, ma anche gronda delle palpebre. Ci sono stati dei critici che hanno criticato, perché i critici criticano, invece i turisti della commedia viaggiano. I critici che criticano dicono, ma gronda delle palpebre non è una metafora adeguata al paradiso. Ma lo saprà Dante se è adeguata al paradiso. Cosa vuol che ne sappia un critico. Un critico non può sapere se è adeguato la sua scrittura. E' proprio questa lontananza che rende adeguato. In un altro punto, nel cielo di Saturno, un santo, in Paradiso 21, dirà, Pier Damiani, dirà, la luce che mi inventra. La luce che mi inventra. Cioè, la luce che mi rende incinta. Cioè, capite che un santo maschio che dice che la luce lo inventra. Cioè, c'è addirittura un atto quasi fisico. Non dico sessuale, ma caspita, è quella roba lì. Ma poi non si accontenta, perché dice che questa luce che lo inventra è munta. Cioè, come da una mammella di una mucca è munta. La luce munta. E anche qua i critici, che non sono turisti della commedia, che viaggiano, ma che criticano, hanno molto criticato ma come fa la luce a essere munta. E spesso c'è questa menata che il paradiso è meno ispirato poeticamente, non ha la stessa cosa dell'inferno, non abbiamo la stessa altezza. Ma capite che la luce munta è un'immagine bellissima. Perché rende il paradiso domestico, rende l'esperienza del paradiso un'esperienza vicina, fatta di carne. Non è vero che il paradiso è il regno dell'immateriale, del software. Come diceva Umberto Eco in un bellissimo articolo su Repubblica. Il paradiso è il regno del metafisico che diventa fisico. Cioè, Dio viene ancora incontro a noi e viene incontro a noi sempre umanizzandosi. E' questo, secondo me, che noi dobbiamo capire. Se noi continuiamo a dire che la luce munta è una mancanza di ispirazione, noi non abbiamo capito niente di Dio, dell'incarnazione e di tutto quello che fa Dio per noi. Perché è il modo in cui il divino si rende accessibile. ma si rende accessibile nell'inatteso, nel bambino che si sveglia a fame della scodella di latte o nella mucca da mungere, da mungere, in questa luce che ti inventra. Allora, ci siamo. Vedo intanto che qua c'è tutto un movimento meraviglioso. Poi, tra l'altro, io non so perché sto urlando, perché voi siete lontani. Mi sentiranno nell'altra stanza. Io, tra l'altro, sto urlando. Mi lascio prendere dall'entusiasmos. Vengo colto da questo furore profetico. Allora, facciamo così. Vi leggo tre esempi. Faccio il carotaggio di tre piccoli punti e provo da questi tre punti a darvi queste istruzioni per essere felici. Ben rendendomi conto che è difficile, però vi chiedo, intanto, ci siete? Siete ancora nella piccioletta barca? Andiamo, perché adesso vi leggerò tre cose che non saranno proprio facilissime. Oh, brava Sandra! No, perché poi io finisco le dirette ho mal di gola. Ma mi sento un cretino perché sto parlando. a uno schermo. Va bene. Un attimo che... Allora. Prima, vediamo, partiamo da una cosa... No. Allora. Paradiso 24. Vi leggo proprio una terzina. Quest'è il principio. Quest'è la favilla che si dilata in fiamma poi vivace e come stella in cielo in me scintilla. Allora, già capiamo che abbiamo favilla, fiamma, stella, scintilla, il paradiso è fuoco. A livello alchemico c'è un passaggio della natura che va da la terra al fuoco. Il fuoco, sante, non ti preoccupare, parlerò ancora, mi sa, tre ore, puoi stare tranquillamente. Allora, il fuoco era quello che alchemicamente perfezionava, perfezionava la natura, il ciclo della natura. Per cui attraverso il fuoco si accelerava, si portava a maturazione il processo alchemico. Quindi, qua siamo nel regno del fuoco e siamo in questo regno terra, inferno, acqua e aria, purgatorio, fuoco, un fuoco anagogico, come diceva Zolla, il paradiso. Quello che la commedia ci chiama a fare è un dilatarsi. Questo è il principio, questa è la favilla che si dilata in fiamma e come stella in cielo scintilla. Cioè, Dante è costantemente in un excessus mentis. È una forma di dilatatio. Non ti preoccupare Rachele, tanto la lascerò in eterno. Cioè, noi, la commedia ci costringe a una visione larga. E uso proprio la parola larga, la largitas. Quando in Paradiso undici Dante osserva la terra dal cielo del sole e dice o insensata cura dei mortali. Cioè, il Paradiso offre la giusta distanza per vedere di quante cose inutili noi perdiamo tempo. Quindi, questa visione larga, orizzonti larghi, uso una parola difficile, Dante ci costringe alla metanoia, cioè a cambiare il nostro punto di vista. Noi siamo felici solo quando cambiamo il punto di vista. Allarghiamo il nostro orizzonte, uno sguardo in qualche maniera capace di stupore, abbandono, complessità. Dante spesso guarda la terra da distante. C'è un punto bellissimo in cui Dante vede la terra e dice l'aiuola che ci fa tanto feroci. Vi ricordate Pascoli? Quest'atomo opaco del male, eccola lì. Cioè, se noi iniziamo a guardare il mondo dall'alto, dal punto di vista di Dio, e questo fa la commedia, cioè, il paradiso ci costringe a guardare la vita dal punto di vista di Dio e renderci conto di quanto è inutile quello per cui ci affanniamo tanto. Io penso che la grande occasione che ci può dare questa pandemia, a parte che c'era una Venus pandemia, se spostiamo l'accento, c'è un amore cosmico, la Venere pandemia, è una venere panica, quindi se dalle pandemie passiamo alle pandemie, ci accorgeremo che la grande occasione appunto che ci dà questa cosa, al di là dei problemi economici, dei morti e della fatica, per non rendere vano questa fatica, questi morti e tutto questo disastro, è l'occasione di riprendere in mano e rivedere le nostre priorità e quindi in questi giorni in cui siamo costretti a continue rinunce, stiamo anche un po' alchemicamente scremando e sublimando e arrivando all'essenziale, questa, almeno a me, questa quarantena mi sta mostrando il meglio di me e il peggio di me, è su questo che dobbiamo lavorare, perché sta togliendo tutto quello che un po' frenava queste cose, allora se noi riusciamo a tornare a questa essenziale, realmente siamo purificati come Dante che è purificato, allora, la visione deve essere una visione ampia, la visione larga, la commedia ci porta a vedere il mondo dal punto di vista di Dio, dilatatio, questa è la prima istruzione, allargare il punto di vista, l'altro punto di vista è ma questi spiriti, queste anime beati, questi morti, hanno a che fare soltanto con i morti, cioè Dante, aneddoto, ero andato una volta in un liceo, tra l'altro liceo della professoressa Ceriani di Sandra e una ragazza di una classe mi aveva detto in maniera abbastanza ma se Dante sapeva già che Dio esiste e che va e c'è il paradiso e che lui andrà in paradiso ma cosa gliene frega tanto degli uomini? Caspita, e questa domanda mi aveva colto totalmente impreparato. Il problema è che a Dante gliene frega tantissimo di tutto, gliene frega tantissimo dell'uomo e gliene frega tantissimo di Dio. Cioè, proprio perché Dante vede dal punto di vista di Dio che ancora si infuria, quando San Pietro parlerà della chiesa insomma parlerà di fogna puzza di fogna di cloaca che gli arriva allora non è che perché noi ormai abbiamo capito che Dio esiste che Dio è buono e che andremo in paradiso non viviamo qua la nostra occasione della vita Dante non è un mistico che sta negli eremi Dante è un mistico politico cioè Dante è un personaggio attuale e attivo che ci costringe all'azione e anche qua faccio miele parole di Gianni Bacchelli è attuale nell'esperienza è quello che noi dobbiamo fare allora a lui importa tantissimo queste anime non è che sono anime totalmente fuori da ogni logica terrena cioè la terra è ancora un luogo caro la terra è ancora la palestra dove noi dobbiamo allenarci per fare anima ecco per esempio stiamo usando la quarantena come palestra per allenarci a fare anima sempre per usare termini junghiani e vi leggo un bellissimo passo da paradiso 14 una cosa per me commovente siamo nel cielo via il sole e Dante sta parlando della ressurrezione dei corpi cioè nel giorno del giudizio ci sarà la ressurrezione dei corpi i corpi entreranno si uniranno con gli spiriti e ci sarà per le anime dell'inferno una sofferenza esagerata ma per le per le anime dei beati per le anime del paradiso ci sarà una un trionfo cioè la pienezza psicofisica sentite come la rende Dante quindi stiamo parlando della ressurrezione dei corpi e le anime che sono queste ghirlande di luce esultano tra l'altro le anime del paradiso sono meravigliose perché sono felici e danzano sembrano dei delfini sono dei pesci guizzanti sono pieni di festa veramente non saprei che paragone fare tanto mi parver subiti e accorti e l'uno e l'altro coro a dicer a me amen cioè stiamo parlando della ressurrezione dei corpi e diciamo amen amme che ben mostrare visio di corpi morti allora queste anime sentono la nostalgia dei loro corpi allora non è che l'esperienza terrena è un'esperienza da cui le anime del paradiso si sono totalmente purificate ecco questo non c'è non c'è un rifiuto della carne del corpo della fisicità non è niente sesso siamo medievali c'è un corpo gioioso un corpo pieno c'è un amore veramente completo la felicità è nel nostro essere interi non nel nostro essere mancanti e queste anime sono ancora mancanti perché qua non vediamo le anime nel momento di massima perfezione perché il momento di massima perfezione sarà dopo il giudizio universale cioè pensate ancora paradossalmente le anime dei beati sono delle anime in divenire scusate dovevo tossire così io però vabbè sono a casa mi metterò immediatamente il gel nelle mani quindi queste anime mostrarvi io di corpi morti e qua sentite forse non pur per loro ma non lo stanno pensando per se stessi perché le anime del paradiso non sono anime egoiste ma per le mamme per gli padri e per gli altri che fuor cari anzi che fossero sempiterne fiamme perché prima che diventassero fiamme sempiterne questi avevano una mamma un papà degli affetti e quindi non sono felici di riavere il loro corpo sono felici di poter riabbracciare i corpi dei loro cari pensiamo in questa dimensione di quarantena quanto l'abbraccio si sta facendo una questione cruciale per le persone che per esempio abitano sole o comunque anch'io con molti abbracci perché ho l'opportuna di avere appunto una famiglia abbondante ma mi mancano gli abbracci degli amici di mia mamma delle persone care delle persone a cui voglio bene ecco e pensate ai grandi abbracci che non avvengono Dante che cerca di abbracciare Casella Stazio che cerca di abbracciare Virgilio anche queste anime hanno bisogno di questo abbraccio per cui queste anime sono lontane dal brutto di noi ma non sono lontane dagli aspetti dell'umanità è un'umanità all'ennesima potenza è un'umanità al cubo pensare che nella commedia nel paradiso Dante si libera dalle passioni terrene secondo me è un equivoco è un fraintendimento Dante assolutamente vuole stare in questo e quindi potenzia potenzia assolutamente grazie Francesco potenzia assolutamente le cose belle degli esseri umani quindi inferno le cose disumane paradiso le cose umane umane ma che potrebbero migliorare purgatorio le cose umane umane ma che potrebbero migliorare paradiso l'umanità nel suo trionfo la commedia è un grande poema epico che rappresenta una metamorfosi cristiana per quello Dante spesso deruba Ovidio l'autore delle metamorfosi perché lui scrive il suo libro di metamorfosi ma sono delle metamorfosi dove alla fine ritroviamo l'uomo l'uomo ritorna pienamente l'uomo quindi pensiero dilatato pensiero ampio e le passioni terrene non sono cancellate ma sono all'ennesima potenza e pensate tra l'altro che è roba meravigliosa amme che fa rima con mamme la amen questa parola da chiesa che fa di nuovo vedete che ritorna sempre l'esperienza domestica il bambino che corre verso il latte la luce munta cioè dante il 5 maggio io e gianni faremo una un match no non sarà una sfida parleremo di dante tra puer e senex io mi occuperò del dante vecchio e gianni si occuperà del dante bambino e capiremo che il viaggio della commedia è anche questo è anche un tornare bambini ha questa gioia bambina le fiamme le anime del paradiso sono dei bambini gioiosi dei bambini che tornano a ridere i bambini ridono poi diventano adulti e hanno delle facce sempre cuppe perché la vita le rovina ciao Nicolò cioè è questo il problema cioè i bambini ridono le fiamme del paradiso sono gioiose si arrabbiano ogni tanto ma quando pensano alle cose brutte degli uomini terza cosa sto per concludere che in realtà non sto per concludere il principio della solidarietà canto diciannovesimo le anime si compongono a Dante siamo nel cielo di Giove e prima fanno una scritta in cielo diligite justitiam justitiam dalla m di justitiam viene fuori un'aquila l'aquila della giustizia l'aquila di Giove ma è formata dalle anime questa m disegnata nel cielo parla ma è un'anima è una figura collettiva cioè è un gruppo e dice Dante e qualche mi conviene ritrarte steso non portò voce mai né scrisse incostro io vi sto dicendo una roba stranissima ne fu per fantasia già mai compreso che io vidi e anche udì parlarlo rostro il becco dell'aquila e sonar nella voce e io e mio quando era nel concetto e noi e nostro cioè invece che dire io quest'anima questa quest'animale collettivo quest'aquila collettiva dice invece che dire noi dice io cioè noi veniamo da quest'umanità che ha sciolto ogni relazione barbarica dell'inferno dove le anime si fanno i dispetti si rodono il capo uno dice quello là è peggio di me si fanno veramente i dispetti da cella da compagni di cella arriviamo al purgatorio dove ci sono le anime che cantano e piangono insieme e quindi ritornano a essere solidali qua addirittura abbiamo una collettività che diventa io ragazzi adesso io non vorrei usare la parola ragazzi ragazze persone nirvana però insomma un po' siamo lì cioè un enorme serbatoio cosmico in cui tutti quanti insieme dicono io invece che dire noi si annullano gli individualismi allora capite perché facciamo fatica a leggere il paradiso metanoia allargare la nostra mente cambiare il punto di vista rompere i nostri copioni andare fuori di noi stessi pensare dal punto di vista di dio tornare a una passione terrena all'ennesima potenza un corpo gioioso vivere tutti i sensi gioiosamente e terzo non esiste più l'individualità ma esiste un enorme essere io non è un enorme famiglia siamo un'unica cosa ecco sono tre cose e adesso arrivo alla conclusione che non sarà breve ecco non sarò breve però spero di essere riuscito a farvi vedere che è difficile capire le istruzioni per essere felici del paradiso ma che Dante in questo paradiso davvero ci spinge tanto spinge molto il pedale allora se noi proviamo a pensare queste sono le cose che troviamo nei manuali di meditazione quando andiamo in psicoterapia quando leggiamo appunto i libri di integrazione dell'ombra cioè si accorgiamo che quest'uomo 700 anni fa veramente ci regalava generosamente un grande mistero ma che è un grande mistero psicologico quindi questi morti sono vitali a noi e ci parlano a noi concludo con due cose che non hanno a che fare con Dante noi tutti sappiamo che alla fine questo viaggio porta a vedere Dio ma alla fine Dio è come dicevo prima difficile da raccontare difficile da vedere però diciamo così banalmente appare con tre cerchi concentrici o luce etterna che sola in te sidi sola ti intendi e da te intelletta intendente te ami e arridi quella circolazione che si concetta pareva in te come lume riflesso dagli occhi miei alquanto circonspetta se anche non avete capito niente già sentite però ti intendi intelletta intendente è un cerchio è una cosa che gira su se stessa ma attenzione non è il loop è una cosa che gira per progredire è veramente il grande cerchio archetipico cioè quindi per dare l'idea di una cosa circonscritta circonspetta continua a ripetere usa delle figure etimologiche per renderci l'idea di qualcosa che si muove su se stesso la rota pareva in te come lume riflesso dagli occhi miei alquanto circonspetta dentro da sé del suo colore stesso eccola qua mi parvi pinta della nostra effigie perché il mio viso in lei tutta era messo Dante vede la nostra scusate guardate perché sto leggendo Sandra mi sta dicendo una cosa ah ok sì sì beh certo la nostra la nostra la nostra effigie che cosa vuol dire la nostra effigie Dante vede la parte umana della trinità cioè vede il figlio cioè Dio che si è fatto uomo Dante vede se stesso quindi come se Dio fosse uno specchio Dante vede l'umanità vi ricordate nel mezzo del cammin di nostra vita e quindi vede la nostra effigie però qualunque sia quello che noi vediamo Dante fa coincidere l'umano e il divino allora qua secondo me bisogna capire se è nato l'uovo o la gallina quelli che dicono che Dante mette al centro l'uomo sono quelli che sostengono che Dante è il creatore di un nuovo umanesimo antelitteram quelli che mettono Dio al centro sono quelli che vedono l'uomo Dante l'ultimo dei medievali cioè Dante l'ultimo dei medievali o Dante il primo degli umanisti ma cosa cambia l'importante è questa coincidenza piena tra umano e divino quindi la metamorfosi cristiana avviene perché l'uomo diventa simile a Dio ritorna a essere Dio io non la commento ma vi leggo due cose molto diverse tra loro si aprì loro la porta e finalmente videro il Simorg brillò di una luce vivissima e videro che il Simorg non era altro che se stessi quando guardavano il Simorg vedevano che era lui e se rivolgevano i loro sguardi su se stessi vedevano che essi stessi erano il Simorg giacché non capivano interrogarono il Simorg e il Simorg disse senza parole il sole della mia maestà è uno specchio chi vi riflette scorge la sua anima e il suo corpo vi si vede intero se foste trento o quaranta uccelli vedreste trento o quaranta uccelli su questo specchio allora gli uccelli si persero per sempre nel Simorg l'ombra si confuse col sole e questo è tutto questo è un poema persiano del dodicesimo tredicesimo secolo il colloquio degli uccelli il concilio degli uccelli il discorso degli uccelli trento uccelli vanno a cercare il loro re vanno a cercare e alla fine dopo mille peripezie arrivano e vedono questo Simorg che è uno specchio e riflette loro perché Simorg vuol dire trenta ecco è impensabile una connessione di Dante con un poema persiano del dodicesimo secolo boh chi lo sa ma ve ne leggo un'altra questo è tratto da l'uomo di luce nel sufismo iraniano di Henri Corbin e dice può anche avvenire ad esempio quando uno stato di allegria succede all'angoscia oppure la familiarità al timore o il desiderio ardente al torpore che tutti i cerchi del viso si mostrino insieme quindi i cerchi concentrici al mistico sembra allora che sia lo stesso augusto viso a mostrarsi irradiato da cerchi sfolgoranti che lo circondano di un'immunologia di gloria quindi al mistico sembra di vedere il volto di Dio dentro dei cerchi allora il poema persiano e questo qua tratto dal sufismo iraniano ci fa vedere che è unica la fonte della mistica a cui noi in qualche maniera attingiamo allora non so perché Dante allora ci sono anche delle teorie probabilmente c'è una matrice neoplatonica comune che andò in occidente e in oriente però adesso è difficile capire quali fossero le persone conosciute da Dante i contatti comuni i maestri o se Dante fosse realmente un illuminato o se la commedia veramente l'abbia scritta lo spirito santo perché Dante è calamus come diceva Guido da Pisa dello spirito santo è difficile capire questo ma noi leggiamo due testi dello stesso periodo di due epoche cioè di due luoghi geografici assolutamente lontani e ci accorgiamo che il sentimento è questo allora gridiamo al miracolo proviamo a dire coincidenze chiamiamo le sincronie ma la visione mistica è questa cioè arriviamo a questa cosa qua ed è una cosa trasversale di tutte le epoche di tutte le religioni di tutte le discipline allora Dante scrive un poema sacro punto di domanda la risposta io ce l'ho dentro il mio cuore rilancio a voi adesso vediamo magari se coi commenti e concludo comunque sto concludendo però prima di dare la parola anche all'assessore è questo forse su cui noi ci dobbiamo interrogare ripeto la il cortocircuito sensoriale che fa sì che noi dobbiamo cambiare il nostro punto di vista cambiare il nostro punto di vista quindi vedere le cose dal punto di vista di Dio un atteggiamento di gioia fisica e spirituale e questa solidarietà totale cioè annullare gli egoismi gli individualismi il tutto per ritrovare il divino nell'umano e l'umano nel divino ma lascio la parola all'assessore pronto assessore? ecco ci sono ciao Mirko ciao Gian Michele noto che quando tu parli quando tu parli anche di te metti sempre la parola Dante perché al di là della battuta che faccio che sarà molto ingenua quando hai detto che hai una famiglia a buon Dante mi sembra che tu Dante ce lo metti dentro un po' dappertutto ovvero mia moglie comunque volevo solo dire a tutti quelli che ci hanno ascoltato che ti hanno ascoltato grazie perché questa serata è stata anticipata questa serata è stata resa online grazie alle tue conoscenze informatiche alla tua voglia di trovare degli scamotaggi a questo periodo vi dico solo questo oltre a ringraziarvi appunto che il prossimo anno con Mirko avremo intenzione di fare un lungo percorso su Dante all'Università Popolare di Sona faremo un percorso che sarà un percorso che prevede che prevede circa una quindicina di incontri perché questo mi sembra che sia già stato un modo è stato un modo di verificare con lui che tre incontri da soli non sono sufficienti perché parlare del paradiso ci metteremo delle ore parlare dell'inferno altrettanto parlare del purgatorio altrettanto e quindi la cosa più bella che secondo me si può fare è quella di approfondirla ancora di più questa materia quindi vi invito tutti a seguirci nelle prossime settimane entro un paio di mesi metteremo a disposizione il catalogo completo dell'Università Popolare di Sona per cui è quasi certo praticamente sicuro che ci sarà anche il nostro amico Mirko a parlare del paradiso del purgatorio dell'inferno poi noi ci collocheremo dove pensiamo dove meritiamo ecco dove meritiamo no in realtà dove scegliamo grazie dove scegliamo forse così semplice qualche volta ci serve un po' di tutto ci serve un po' di inferno un po' di paradiso un po' di purgatorio per vivere la vita terrenna probabilmente assolutamente assolutamente quindi ecco arrivederci grazie di tutto a te ciao ciao allora torno qua vi saluto vi ringrazio tutti quanti le persone belle che ci sono state allora giovedì adesso ho fatto un click è giovedì alle ore 18 sulla pagina di Riccardo Starnotti ci sarà il commento del canto quinto dell'inferno il famoso canto bellissimo di Paolo e Francesca poi invece venerdì 24 aprile sulla pagina di Gianni Bacchelli si parlerà del regno dell'antica lupa e quindi entreremo nel capitolo del capitolo del capitalismo più avido e più famelico domenica 25 aprile insieme agli amici della goccia sulla pagina della goccia io parlerò alle ore 18 del canto sesto del purgatorio quindi il canto politico parleremo dalla serva Italia all'umile Italia proviamo a vedere se le istruzioni per essere felici valgano anche per i nostri politici io vi ringrazio tutti quanti per questa partecipazione calorosa se abbiamo fatto fatica bene perché non possiamo pretendere di essere felici senza fare fatica se avete qualche domanda lascio ancora qualche minuto se avete qualche dubbio o qualche domanda comunque se seguite queste pagine adesso mi sono lanciato anche io non so se ho voglia di tornare alla fase 2 perché mi sono lanciato anche a fare i video su YouTube e quindi sto caricando dei video su YouTube su un canale di Mirko Cittadini grazie a tutti quanti le persone che ci sono state quello che vedrete però è insomma vabbè insomma i deliri di un turista della commedia possiamo scegliere di essere felici perché siamo liberi e Dante ce lo dice chiaramente quindi un grande abbraccio a tutte quante a tutti quanti giovedì Riccardo Starnotti venerdì Gianni Vacchelli ah scusate sabato non domenica cioè il 25 aprile io canto politico se volete questa sera alle 21 mi stavo dimenticando sempre Gianni Vacchelli andate sulla sua pagina e presenterà il suo libro ci sarà la presentazione del suo libro un orso un orsetto dantesco stellare un strucon forte allora ci struconiamo tutti in questo abbraccio impossibile ah sì Rosa cara Rosa allora giovedì 23 aprile Riccardo Starnotti alle ore 18 canto quinto dell'inferno 24 aprile ore 21 sulla pagina di Gianni Vacchelli il regno dell'antica lupa sabato 25 aprile alle ore 18 sulla pagina della goccia io parlerò del canto sesto del purgatorio comunque se seguite le mie pagine state tranquille perché io in questi giorni ahimè nelle mie ore d'aria faccio questo d'anteggio un grazie a tutte quante a tutti quanti adesso torno a struconare la famiglia abbondante e ci sentiamo presto viva Dante Dante è vivo